Sale l'attesa per la terza ed ultima giornata del campionato nazionale Juniores e Under 2014 in corso al Pala Badminton di Milano. Al termine di una lunga giornata di incontri, i tabelloni delle quattro categorie in gara hanno espresso i nomi dei finalisti che si contenderanno il titolo di campione d'Italia delle cinque specialità nell'appuntamento conclusivo della manifestazione. Nel singolare maschile della categoria Juniores hanno staccato il pass per la finalissima Julian Paul Mikkel e Pirmin Klossner. Il primo regolato Nicola Vertua è in semifinale in due set col punteggio di 21-14-21-7. Klossner ha imposto invece un 21-17-21-16 su Lucas Osele. Nel singolare femminile la finale sarà Maran Strobel. Karin Maran ha battuto i tre set Lidia Rainero, 12-21-21-19-21-16. Anna Strobel ha invece ottenuto e lascia passare per la finalissima nel match contro Giulia Cimini, 21-18-21-17.